Prosegue senza sosta l'ondata di arrivi di migranti. Complessivamente tra ieri e oggi lungo le coste sul Cittane sono arrivati 68 migranti dall'Algeria. Rete Oncologica Sarda ha presentato ieri la riorganizzazione. In Sardegna sono 70.000 le persone con una diagnosi di tumore, 9.000 i casi registrati nel 2017. Una delibera dell'aggiunta getta le basi per la riorganizzazione della rete oncologica. Referendum Insularità dopo la bocciatura pronto il ricorso. Il Comitato Promotore per l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione, guidato da Roberto Frongia, è già pronto per il ricorso. Carboni affervano i preparativi per la sfilata di carnevale, tutto pronto per l'appuntamento di domenica 11 febbraio. All'iniziativa potranno partecipare anche gruppi in maschera provenienti da altre città, bande musicali e formazioni folk locali. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro Tg, oggi giovedì 1 febbraio 2018. Apriamo la prima parte del nostro telegiornale con la cronaca, perché prosegue senza sosta l'ondata di arrivi di migranti lungo le coste sul Citane. Complessivamente tra ieri e oggi sono arrivati 68 algerini. Sentiamo. Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri gli sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis. Intorno alle 14 una moto vedetta della Guardia di Finanza a mare ha soccorso 35 migranti algerini, tra i quali una donna con un bambino di 7 mesi nelle acque territoriali di fronte a Sant'Antioco. Dopo i soccorsi, una volta identificati, sono stati trasferiti tutti al centro di prima accoglienza di Monastire. Complessivamente dalla notte scorsa nel Sulcis sono arrivati 68 migranti, 11 soccorsi dai carabinieri, altri 8 dalla Guardia di Finanza e ieri mattina altri 14 sono stati soccorsi dai carabinieri e 35 dalla Guardia di Finanza. Cambiamo argomento adesso e parliamo di sanità, perché l'assessore Arlo ha presentato ieri gli indirizzi per la riorganizzazione della rete oncologica Sarda. Sentiamo meglio di cosa si tratta nel servizio che segue. In Sardegna sono 70.000 le persone con una diagnosi di tumore seguite dalle oncologie, 9.000 i nuovi casi registrati nel corso del 2017. Secondo i dati ISTAT 2014 ci sono 4.847 decessi per tumore. Sono alcuni dati forniti ieri nel corso della presentazione della delibera approvata dall'Aggiunta che getta le basi per la riorganizzazione della rete oncologica regionale. La riforma ospedaliera approvata a ottobre, ha ricordato l'assessore Arru, definisce di interesse strategico la rete dell'oncologia che si configura come una disciplina che abbraccia sia le aree territoriali, sia quelle specialistiche ospedaliere che di ricerca. Come certificato anche dall'ultimo programma nazionale ESITI, c'è troppa frammentazione nella risposta al paziente oncologico e una distribuzione dei servizi non omogenea. Ieri all'illustrazione con l'assessore della sanità Luigi Arru erano presenti anche gli oncologi Daniele Farci e Mario Scartozzi, componenti del coordinamento della rete oncologica istituito con decreto alla fine dello scorso anno. Entrambi hanno sottolineato come le reti in altre realtà nazionali abbiano favorito la gestione del paziente oncologico e il raggiungimento di risultati positivi sul fronte della prevenzione e della cura dei tumori. Al coordinamento è affidato il compito di individuare percorsi che favoriscano la collaborazione e la sinergia tra i professionisti, la diffusione di conoscenze e la condivisione collegiale di protocolli di cura. Dopo la bocciatura da parte dell'ufficio regionale del referendum, i membri del comitato che ha promosso l'indizione del referendum in Sardegna per l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione, guidato da Roberto Frongia, si dicono pronti per il ricorso. Ci sono 60 giorni di tempo per la presentazione del ricorso che il comitato potrà depositare al TAR oppure potrebbero decidere di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per indire il referendum, il comitato aveva raccolto entro il 31 dicembre 2017 oltre 90.000 firme in tutti i comuni della Sardegna. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro OTG. Andiamo a Villa Massargia, lavoro per 7 disoccupati del Paese grazie ad un finanziamento della Regione pari a 143.000 euro. La stessa cifra stanziata per il cantiere in corso in diverse zone urbane e dell'agro del Paese. Nel prossimo cantiere l'impegno sarà rivolto ai 700 ulivi plurisecolari al centro di un progetto di cura realizzato con l'Università di Sassari, l'Agenzia Laore e il Corpo Forestale. E proprio per sostenere e valorizzare il Parco del Sortumannu, l'amministrazione intende chiedere alla Regione di poter proseguire il progetto per almeno altri tre anni. Isigetta ha messo in vendita da qualche giorno il nuovo volo che collegherà Cagliari a Berlino Tegel. Il collegamento sarà operativo con sei voli settimanali tra le due città a partire dal 4 agosto. È già disponibile sul sito easyjet.com. La nuova rotta che porta a nove i collegamenti da e per Cagliari è il risultato dell'acquisizione di EasyJet di parte delle operazioni di Air Berlin all'aeroporto di Berlino Tegel, che ha portato ad un ampliamento dell'offerta con più voli e tariffe convenienti per i passeggeri in viaggio da e per il principale scalo della capitale tedesca. La Polizia Locale di Carboni ha diramato il nuovo avviso di posizionamento dell'autovelox per il mese di febbraio. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate a norma di legge dall'apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l'iscrizione Polizia Municipale Carbonia, controllo elettronico della velocità. L'apparecchiatura per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo personale del comando di Polizia Locale di Carbonia. Andiamo adesso al Carnevale perché fervono i preparativi per la nuova edizione del Carnevale di Carbonia. l'appuntamento con la tradizionale sfilata dei carri allegorici è per domenica 11 febbraio. L'obiettivo, ha affermato il sindaco Paola Massidda, è trasformare la manifestazione in un momento di forte condivisione per la cittadinanza, coinvolgendo giovani e meno giovani, rafforzando il senso di appartenenza che ci lega la nostra città. Tutti coloro che volessero partecipare alla sfilata sono invitati a presentare la domanda per le iscrizioni, scaricando i moduli allegati. Per informazioni, per il ritiro e la consegna dei moduli di iscrizione, gli interessati possono recarsi presso gli uffici competenti del Comune. È tutto per il Tg odierno, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio adesso alle previsioni meteo per la giornata di domani. Andrà in onda poi Noas in Curso a cura di Guido Cadoni, mentre l'appuntamento per stasera alle 21 è per a tutto campo a cura di Giancarlo Cancedda. Arrivederci alle prossime edizioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS